Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi. In questo nuovo video vi spiego come controllare così il computer da telefono e spegnerlo anche da telefono e fare moltissime altre cose. Quindi in questo caso grazie all'applicazione TeamViewer è possibile fare tutto. Ovviamente bisogna scaricare l'applicazione sia su computer, TeamViewer su computer, schiaccia su Windows e ti scarica così l'applicazione download. Quindi fai su download 64 bit o 32 bit. Una volta scaricato e installato devi solamente avviare l'applicazione. Quindi in questo caso non mi resta un attimo che disconnettere così facciamo chiudi. Una volta fatto vado a prendere l'applicazione e vado a scriverla qua su TeamViewer. Non serve neanche installarla, è solamente un software dove tu poi devi connettere così attraverso il telefono ed eccolo qua. Codice sessione. Ovviamente il tuo ID, questo è il mio ID e la password. Dove mettere questi codici? Ovviamente bisogna metterli sul telefono. Quindi in questo caso vai direttamente sul Play Store. Scarica l'applicazione TeamViewer. Apri. Entriamo su TeamViewer. Ed eccolo qua. Ovviamente ti consiglio di fare l'accesso o crearti un account TeamViewer, di crearti anche una chiave criptografica tutta tua. E poi qua dove c'è scritto ID Partner dobbiamo mettere il tuo ID che sta sul mio desktop. Ed eccolo là. Metto così il mio ID. Faccio controllo remoto. Basta che i due dispositivi siano connessi alla stessa rete. Se non sono connessi alla stessa rete in casa non funziona. Mettiamo anche la password che ci dice computer. Ed eccolo qua. Ora abbiamo connesso i due dispositivi. In questo caso io posso portare il computer da telefono e posso anche spegnerlo da telefono. Cliccando qua su. Andando su. Arresta il sistema. Arresta il sistema. Oppure facendo anche altre cose. In questo caso se hai una buona connessione e un buon telefono o un buon computer. Andrai molto fluido. Senza problemi di lag. Ovviamente lo sfondo è di questo colore qua. Comunque. Teamviewer è veramente un'ottima applicazione. Perché per connettere così i dispositivi e anche controllarli da remoto. Quindi se hai problemi commenta su tal video. Basta che scarichi e installi l'applicazione sul telefono. Quindi dal play store. Ti crei un account su Teamviewer. E cominci poi a inserire l'id che ti ha dato il computer e la password. E connetti così i dispositivi. Basta che i due dispositivi siano connessi alla stessa rete. Ovviamente visto che lo devi usare in casa. Li puoi connettere alla tua connessione wifi. Quindi grazie a tutti per questa visione. E noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao.